A 94 anni è morta Franca Olmi. È stata non solo uno dei politici di Verbania più attivi e conosciuti della Prima Repubblica, ma un politico donna. In un mondo prettamente maschile ha saputo tenere testa a tutti, farsi strada e portare avanti le sue battaglie politiche. La più importante è stata quella per la Costituzione del Parco Nazionale della Val Grande, di cui ha coordinato il Comitato Promotore ed è stata il primo presidente, dal 1900... Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.